Mario, positivo al Covid, con sintomi evidenti, dopo gli esami effettuati in pronto soccorso, è stato ricoverato in pneumologia. Arrivato in reparto, veniva accolto con tutta la prudenza che la situazione impone e nel periodo in cui è rimasto ricoverato, il personale lo ha seguito con i necessari dispositivi di protezione, dopo averlo accompagnato nella stanza di degenza. Dove veniva allestito il letto in maniera adeguata, la stanza, la porta veniva chiusa, proprio per evitare la diffusione del virus, cercando di mantenere questo corridoio il più pulito possibile. Naturalmente in questo periodo il personale medico infermieristico è sempre stato pronto a modificare i supporti a disposizione del paziente, a seconda della gravità della situazione e delle eventuali complicazioni. Veniva supportato anche con farmaci, veniva supportato con terapia infusiva, venivano a seconda appunto della malattia e delle complicanze, venivano richieste consulenze o fatti ulteriori accertamenti. Ma prima di vedere come sarà seguito, anche sotto il profilo umano, il signor Mario, apriamo una parentesi su una delle eccellenze del reparto di pneumologia di Bassano, che ospita uno dei pochi centri nazionali che si occupano di disturbi respiratori del sonno. Il dottor Dalfarre è uno dei quattro maggiori esperti italiani. Qui ci si occupa di disturbi del sonno, il più conosciuto è quello delle apnee ostruttive. Le apnee sono l'espressione più frequente, ma esistono anche altri problemi legati all'aspetto cardiaco e neurologico o patologie polmonari croniche. Insomma, una diagnostica che comprende numerose malattie. A San Bassiano ci si occupa di apnee nel sonno da più di vent'anni. Abbiamo acquisito, credo, una buona preparazione in questo settore, una buona anche offerta per quello che può essere la richiesta. Teniamo presente che, come dato epidemiologico, la prevalenza di disturbi respiratori nel sonno è del 37% nel sesso maschile e del 17% nel sesso femminile, nell'età 40-70 anni. Se ci sono altre malattie cardiologiche, neurologiche o del metabolismo presenti, la situazione delle apnee può essere ben più grave. In particolare comorbidità cardiovascolari, comorbidità neurologiche tipo lictus oppure metaboliche tipo il diabete e patologie di questo tipo sono sempre situazioni che accentuano quello che è il livello di problema durante la notte. Qui l'obiettivo è far guarire il paziente. Non sempre è possibile, ma ciò che interessa è la qualità della vita di chi ha disturbi del sonno. Dire che si guarisce è una parola un po' grossa. Nel senso, si guarisce? Certamente sì. Lì può fare guarire l'ottorino con l'intervento chirurgico, quando il problema non è eccessivamente ormai grave. Quindi il giovane oppure la persona di mezza età che ha un problema non eccessivamente grave, io sono sempre favorevole all'intervento chirurgico, perché può essere risolutore del problema. In tutti gli altri casi si effettuano terapie durante la notte, anche se quelle riconosciute scientificamente sono solo tre. Una, il go standard di terapia è il trattamento a pressione positiva, la CPAP. Ci sono i sei protusori mandibolari BITE, quelli che avanzano la mandibola in maniera regolata, quindi sono regolabili in avanzamento. E poi ci sono dei sensori particolari che evitano la posizione supina nel sonno, ma sono dedicati ovviamente a una fetta di pazienti estremamente limitata. A volte alle terapie si può unire un intervento chirurgico, ma come ci si accorge di avere problemi nel sonno? Solitamente non è il paziente, ma è il compagno o la compagna che si rende conto di questo. Il sintomo d'allarme è sempre il russamento, perché uno russa, per cui ovviamente russando dà fastidio, e quindi il problema è il russamento. In realtà il russamento è un rumore, è il campanello di allarme che durante la notte qualcosa non va bene. Il russamento va approfondito se ci sono pause, se da continuo diventa intermittente, ma l'evoluzione di questo problema può richiedere anche dieci anni prima che si manifesti del tutto. Il paziente viene portato dalla moglie, perché ovviamente crea qualche disagio durante la notte, e lì ovviamente si fa la diagnosi e quindi si imposta il percorso terapeutico. Altre volte magari il paziente che arriva perché ha dei sintomi, che ormai se ne parla anche molto di questo, si rende conto che dipendono da una qualità di sonno scadente, e per cui immagina quale possa essere il problema. Altre volte il paziente arriva perché è inviato magari dal collega cardiologo, perché ci sono delle ritmie cardiache. Il gioco di squadra è con altri specialisti coinvolti, tipo l'Otorino, in cui noi abbiamo molto interscambio di informazioni e di attività sui pazienti, come controllo, come diagnostica, come discussione del caso. Con gli altri reparti vengono chiesti esami, sicuramente l'Otorino, principalmente il cardiologo chiede, gli internisti anche chiedono, quindi ci chiedono di fare approfondimenti da questo punto di vista. Il centro del sonno utilizza molto la telemedicina. Nella fase iniziale della terapia, con la maschera notturna, si controlla da remoto come va l'adattamento, vengono monitorati i primi giorni per evitare il fallimento e la perdita di fiducia nella terapia. In questa fase abbiamo la possibilità, monitorando strettamente il paziente in remoto da qui, vedere se ci sono problemi, contattare telefonicamente il paziente, e cercare di capire se il problema è risolvibile semplicemente con un colloquio telefonico o delle indicazioni telefoniche, o quantomeno farlo rientrare prima che ovviamente il problema diventi troppo grande. Nella prima fase il paziente sceglie la maschera tra decine di modelli e la prova in ospedale durante il giorno. Facciamo provare la maschera, quindi è la fase delicata quella, è come una scelta di un paio di scarpe, deve essere comode, non fare male. Noi diamo le indicazioni, poi alla fine il paziente sceglie. Ovviamente questo comporta un po' di tempo, perché la scelta dal punto di vista delle maschere è enorme, ce ne sono tantissime, ce ne sono addirittura differenziate per uomini e donne a seconda delle caratteristiche, per cui è una fase delicata. Fatto questo, il paziente viene mandato a domicilio con la strumentazione e da quel momento noi cominciamo a monitorarlo. Le maschere hanno una scheda telefonica e spente al mattino trasmettono subito dopo le informazioni in ospedale, dove vengono analizzate dai medici. Possiamo vedere quando inizia a usarla e quando la toglie, se la maschera è messa bene o è messa male. Vediamo se durante la notte ci sono degli eventi residui, cioè delle apnee residue, su quello che può essere il modo di respirare, il modo di comportarsi durante la notte, quindi per noi molto utile. Insomma, si controlla il paziente, si interviene subito per correggere, modificando addirittura da lontano la pressione del ventilatore, evitando un viaggio in ospedale e informando il paziente delle modifiche con una semplice telefonata. La tecnologia al servizio della scienza e della medicina, insomma, per ridurre i disagi dei pazienti e non influire negativamente sulla loro qualità di vita. Intanto, tornando al signor Mario, positivo al Covid, spaventato, preoccupato e ansioso di avere informazioni e possibilmente buone notizie, il rapporto che si instaura con il personale, medici e infermieri è un grande valore aggiunto sulla strada della guarigione. Le modalità di ventilazione non invasiva presuppongono un'interazione importante paziente, infermiere e medico, proprio perché il paziente è cosciente, il paziente esprime col viso, con i gesti, la sua fame d'aria e quindi diventa importante l'interazione tra il paziente, la macchina, l'infermiere e che riporta e o il medico che tara e cosa. Questo è, diciamo, importante nel rapporto. Il reparto di pneumologia ha a disposizione vari strumenti per aiutare il paziente che in caso di polmonite interstiziale da Covid fa fatica a prendere ossigeno dall'aria. La difficoltà diventa progressivamente più importante a seconda di quanta parte del polmone viene intaccata. Abbiamo quindi una fase iniziale in cui la polmonite è, diciamo, iniziale, quindi lenta e che dà una lieve calo dello stato di ossigenazione, per cui noi cominciamo a supportare il nostro paziente con le cannule nasali. Via via che questa difficoltà nell'assorbimento dell'ossigeno, che noi misuriamo nel sangue, diventa più grave e quindi più pericolosa e quindi espone il paziente al pericolo di vita, utilizziamo flussi crescenti di ossigeno. Il primo step sicuramente per un paziente che necessita di ossigenoterapia è un banale sistema, un banale dispositivo, detto in gergo occhialini. L'ossigenoterapia è il metodo più semplice, più veloce, più efficace per aumentare l'ossigeno a livello sanguigno. Lo scopo è raggiungere quella quantità normale di ossigeno che i soggetti sani hanno nel sangue. La malattia evolve rapidamente e può accadere che i supporti più semplici non siano sufficienti e allora si usano altri strumenti prima di trasferire il paziente nel reparto di rianimazione. Sono la somministrazione di ossigeno dati flussi e il casco. Ambe due queste modalità di somministrazione di ossigeno non vengono equiparati alla ventilazione ma servono per aumentare la concentrazione in modo da mantenere un livello di ossigeno nel sangue sufficiente perché gli organi possano svolgere le loro funzioni. Qualora il paziente avesse bisogno di un supporto di ossigenoterapia più efficace abbiamo questi altri due dispositivi, queste due maschere con un'ossigenoterapia che può arrivare fino a 60-70 litri al minuto. Abbiamo questo dispositivo, è un dispositivo che utilizza degli occhialini ma differenti da quelli che abbiamo visto prima, molto più morbidi, molto più confortevoli per il paziente e che vanno a derogare un ossigeno riscaldato e umidificato proprio per favorire il comfort del paziente. E poi un ulteriore dispositivo si chiama casco C-PAP nel quale viene pompata una quantità costante di ossigeno. Va molto tarato sul paziente, cosa significa? Può essere confortevole oppure no per il paziente perché il paziente si trova con questo casco che lo avvolge e può essere considerato un disagio. Questo dispositivo funziona senza un ventilatore. Questi sono comunque un sistema temporaneo nella speranza che arrivi un momento in cui l'organismo o i farmaci risolvano il problema. In caso anche questi sistemi si rendessero inefficaci, prima di giungere, di dare al nostro collega rianimatore il paziente, il quale in questo momento ha un'importante ambascia respiratoria, noi possiamo provare dei veri e propri sistemi di ventilazione. Si chiama ventilazione non invasiva proprio perché non vengono inseriti tubi, non vengono inseriti all'interno delle vie aeree dei supporti, ma vengono utilizzate delle interfacce, delle maschere che spingono e supportano la ventilazione del nostro paziente. Nei casi più gravi invece si può arrivare ad utilizzare una macchina, un ventilatore, vero e proprio. A cui viene collegato un tubo e una mascherina al viso del paziente. Questo dispositivo talvolta è più tollerato dai pazienti perché si sentono proprio più a loro agio. Con questi due ventilatori, questi ultimi due dispositivi che si possono vedere qui, andiamo ad effettuare una ventilazione vera e propria, una ventilazione non invasiva. Cosa significa? Non andiamo ad invadere, nel vero senso della parola, il paziente. Cioè lo andiamo a ventilare, ad ossigenare, ad espandere i suoi polmoni, quindi un po' ad attutire la sua fame d'aria che ha, in maniera non invasiva, cioè dall'esterno, non intubando il paziente come classicamente è il paziente della rianimazione. In pratica si posiziona una maschera esterna al viso con una ventilazione molto efficace che porta un beneficio enorme per il paziente. Sono il confine tra quello che possiamo fare noi internisti, noi pneumologi in particolare, rispetto a quello che possono fare gli intensivisti. Di solito il paziente, quindi grave, che nonostante tutti i sistemi che abbiamo utilizzato non riesce ad avere un'adeguata ossigenazione, presenta un livello pericoloso proprio per la vita. Noi contattiamo i nostri colleghi, ci mettiamo d'accordo, valutiamo il paziente, facciamo un tentativo di ventilazione non invasiva. Se il paziente supporta, tollera, riesce a superare questo gradino, poi possiamo tornare facendo il percorso inverso alla normalità e il paziente viene dimesso dalla pneumologia. Se il paziente non riesce a superare questo gradino e in questo momento vuol dire che il suo polmone è completamente occupato da una polmonite, lo appoggiamo ai nostri colleghi della rianimazione che provvederanno con sistemi molto più aggressivi a supportare le funzioni vitali del paziente. Riassumendo, per il signor Mario, dal momento del suo arrivo in pneumologia si presentano due soluzioni possibili. Se la malattia aveva un'evoluzione favorevole, il paziente poi veniva dimesso dopo due tamponi negativi a distanza di 24 ore, veniva poi dimesso e affidato alle cure del territorio con tutti i consigli che venivano dati per la quarantena o comunque per rimanere presso il proprio domicilio. In caso di peggioramento, proprio come dicevamo prima, quando le manovre non invasive o comunque i supporti non invasivi che noi potevamo fornire non erano più efficaci, proprio quando il paziente arrivava allo stremo, veniva in accordo con il collega della rianimazione, veniva accolto in rianimazione dove viene poi sottoposto a trattamenti via via più invasivi. E così il nostro signor Mario, che non è riuscito a recuperare la funzionalità normale dei polmoni nel periodo trascorso in pneumologia, dopo un consulto tra i medici dei due reparti, deve essere trasferito in rianimazione dove verranno messe in atto tutte le procedure per aiutarlo a superare il momento difficile.